Buongiorno, buona domenica! Illustre professore, può raccontare dove ci troviamo questa mattina? Prima di tutto che giorno è oggi? Oggi è il 4... 14 giugno! Dove ci troviamo? Dove ci troviamo? Dove ci troviamo? A Pasticceria Romagna a fare colazione. Dove si trova la Pasticceria Romagna? La Chiaviche è... Cioè, la grande metropoli di Villa Chiaviche. Certo, da non chiamare chi mi ha messo. Oh, benissimo. E cosa stiamo facendo? Cosa abbiamo preso? Cosa abbiamo preso? Cosa abbiamo preso sotto? Puso. Bene, bene. Poi? Che cosa? Che pasta. Che pasta si è mangiato? Ho mangiato la pietra di Devera. È un diplomato. Oh, siamo proprio diplomatici noi, con tutte queste cavolate che diciamo. E invece io, che cos'ho? Io ho il caffè d'orzo. Bravissimo. Il mangio, il mangio non so più cos'è. È un latte macchiato di soia. E poi qua dentro, guardiamo, guardiamo. Mamma mia, c'è la treccia. La treccia nera. E quindi abbiamo fatto la prenotazione. Ma dai, io sono molto più avanti. Hai prenotato ieri. Ho prenotato ieri per oggi. Benissimo. Dai salutiamo. Saluti. Saluti i. Saluti dallo sponso. Anche lo sponso. Saluti prima. Chi dobbiamo salutare? I, I, Cipo. I Cipo. Cipollini. E poi I da? Dai Mandini. E i Davide. Perché dopo noi ci esibiremo in? In una canzoncina che si vedrà. Ecco. Dobbiamo ancora decidere. Adesso facciamo colazione. Oh, bene. Saluti a tutti. Ci risentiamo dopo. Un'unica durato con questo video. Appena due minuti e sedici, diciassette, diciotto. Saluti, saluti ancora. Con la manina. Ciao, ciao, cipollini.